Allora volare è meraviglioso, io volo da 25 anni e continuo a volare, poi volare Quarenza è fantastico, però è bello, volare è bellissimo, continuiamo a volare, mi ha già fatto anche squadra, guarda. Infatti hai visto? Tutti hai visto? No, è uguale, c'è il beraghetto, c'è anche il nome della Giulia, vabbè io sono in branata, di paracantismo non ne capisco niente, però il tunnel mi sono innamorata, quindi aperta Torino, venite, venite perché è troppo figo! Venite volare, ciao! Io vado!